Matteo Renzi è un uomo finito per ora di Alessandra Ghisleri perché Alessandra Ghisleri è una potentissima sondaggista potentissima Alessandra Ghisleri e si è unita al coro anche Alessandra Ghisleri e dice che Matteo Renzi è un uomo finito perché ha votato la fiducia al ministro della giustizia buona fede, hai capito? buona fede Alessandra Ghisleri dice che è il boi di Fiorenza Matteo Renzi non doveva votare la fiducia al ministro buona fede Alessandra Ghisleri Alessandra Ghisleri che devi leggere questa mia opera cara, cara, cara Alessandro Ghisleri ma che cosa vuoi che sia finito il boi di Fiorenza e il boi di Fiorenza c'ha sette vite come un gatto ma tu Alessandra Ghisleri non ti ricordi che cosa è, chi è, chi è Matteo Renzi che è stato presidente della provincia di Fiorenza è stato sindaco di Fiorenza è stato per due volte segretario del PD è stato per tre anni prespremiere a Palazzo Ghigi ora è senatore della Repubblica è segretario di Italia Viva ma cosa vuoi che sia finito cosa vuoi che sia finito Matteo Renzi sei tu che sei finita Alessandra Ghisleri pirola di Serafino Massoni leggi quest'opera Alessandra Ghisleri guarda la stipe del serpente che ti spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato noi oggi viviamo in patriarcato Matteo Renzi vive in patriarcato e Matteo Renzi lo conosce bene in patriarcato il boi di Fiorenza cosa vuoi che sia finito Matteo Renzi tu sei finita Alessandra Ghisleri io ti saluto Alessandra Ghisleri mi chiamo Serafino Massoni ciao Alessandra Ghisleri ciao ciao e ciao eh ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.